2,50, che giudo? Solo questo. Ok, io ho fatto l'acqua, no? Allora, 250 grammi. Uova 3? 3 uova. Sì. Bello! Che pipole. Oh, santo cielo. Sei buffo? Sei buffo. Che è successo? Mi sono imporito, non riuscivo ad aprire lo spazio. E' stato molto speciale, come si chiamano i coprati, perché i miei 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 hanno convinto di fare e sempre di vivere in mezzo alla foresta. Ci troviamo a soli 15 km dal centro della città. Vivere tutto questo. Buono. Beh, se mi chiedi di vivere qualcosa su questo splendido jet, questo è uno Sky Master, una cosa piccata di questo aereo è che si tratta di un modellino a scala. E in scala... Gli spettri. Ma gli spettri non sono artichi paganti e le camere sono quasi sempre vuote. Adesso abbiamo 100.000 dollari di crediti. Sono di una pausa ed è qui che entro in gioco io. Gli spettri. La mia famiglia è stata una situazione di impatto tecnico. Anche le prezioni di chimica e anche le prezioni per l'evoluzione dell'evoluzione. In un video, il leader del gruppo, Abubattar Shakao, ha detto che le ragazze sarebbero in... Anche le prezioni di chimica e anche le prezioni di chimica. Anche le prezioni di chimica e anche le prezioni di chimica e anche le prezioni di chimica. Anche le prezioni di chimica e anche le prezioni non le prezioni di chimica. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti